Benvenuti, nuovo appuntamento con il telegiornale LIS di Tremedia. I sindacati hanno annunciato lo stato di agitazione per protestare contro la chiusura di Casa Serena. Da questa mattina è in corso un'assemblea permanente con gli anziani che rischiano di dovere abbandonare la struttura la cui chiusura è annunciata per il prossimo 31 dicembre. Se non ci saranno novità positive si andrà verso lo sciopero generale dei servizi sociali. Giovedì intanto la decima commissione consigliare del comune si riunirà per affrontare il problema. Emergenza degrado al torrente del villaggio Pace. La struttura è in gran parte dissestata e invasa da erbacce e rifiuti e in vista dei mesi più freddi e di abbondanti precipitazioni i residenti della zona chiedono la messa in sicurezza. A farsi portavoce della questione il consigliere Giovanni Bonanno che chiede interventi immediati alle autorità competenti. Tensione tra il presidente della regione Crocetta e il partito democratico. Non c'è accordo sulla composizione della giunta regionale e sull'ingresso in squadra di politici come chiesto dalla PD. Giovedì intanto è previsto un incontro tra il presidente e i rappresentanti della coalizione. Crocetta ha presentato due nuovi assessori. Si tratta del pubblico ministero Nicolo Marino e della funzionaria di Confindustria Linda Vancheri. Ieri pomeriggio la polizia ha arrestato un uomo di 46 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette Francesco Portovenero con precedenti penali. L'uomo è risultato anche in possesso di 215 euro. Inoltre quando è stato fermato dagli agenti guidava senza patente già ritirata dalla prefettura e l'auto sulla quale viaggiava era sprovvista di assicurazione. Il telegiornale Liss termina qui. L'appuntamento è ovviamente posticipato. Alle prossime edizioni arrivederci.